Ciao, sono Dawn Westlake, la regista di From On High, qui a Los Angeles. Purtroppo a causa Covid-19 non posso essere da voi nella gala di premiazione stanotte, però ringrazio con tutto cuore la giuria e tutto lo staff del Festival per la selezione e il riconoscimento al mio film. È stato un davvero onore essere proiettato in un Festival così consapevole. Dall'importanza dei diritti umani per tutti. Grazie, grazie. Un abbraccio sanitario.